Autenticità dei prodotti, tradizioni secolari, ma anche gusto della ricerca. In tutto il mondo la cucina è un'arte che si reinventa incessantemente in una perfetta alleanza fra tradizione e modernità. In questo universo la famosa Cocotte Staub, fabbricata in Francia e nota in tutto il mondo, è perfettamente a suo agio. Per la nobiltà della sua materia, la ghisa smaltata più di ogni altro materiale trattiene a lungo il calore, ma anche per la sua semplicità d'uso. L'interno, smaltato nero opaco con due strati di smalto vetrificato di composizione speciale, è perfetto sia per brasare che per arrostire e valorizza gli aromi. All'esterno, due o più strati di smalto colorato, in tinte attraenti e dinamiche, che coniugano l'eleganza con il rendimento. Grazie al fondo perfettamente liscio e piatto, le Cocotte Staub sono perfettamente adatte a tutte le fonti di calore, compresa l'induzione. Ed è proprio durante la cottura che svelano il loro vero segreto. Lo speciale coperchio di forma piatta è dotato, sulla superficie interna, di speciali piccole semisfere dette picco, che provocano la condensazione del vapore prodotto durante la cottura e lo fanno ricadere uniformemente e continuativamente in forma di gocce d'acqua su tutta la superficie della preparazione. Questo sistema di cottura a circuito chiuso consente un'irrorazione che è nove volte più efficace dei sistemi convenzionali. I test lo provano. In cucina l'innovazione ha un senso soltanto se messa al servizio della buona riuscita delle preparazioni. La Cocotte Staub preserva tutte le qualità nutrizionali e gustative degli alimenti. La carne diventa tenera, le verdure saporite, per una cucina sana e gustosa. Non è di certo un caso se Staub è il marchio preferito dai più grandi chef di tutto il mondo. Staub, il gusto dell'eccellenza.